Buonasera, allora, permettiamo una cosa, non so se lo vedo perché io non riesco a, assolutamente, a, ah ok, sì, ok, si vede, perfetto. Allora, ok, adesso che ho tutto sotto il contrario, allora, buonasera, buonasera, buonasera a tutti, quelli belli e quelli brutti, e siamo, siamo, sono, sono da solo, però siamo con tutti voi, su un titolo che, secondo me, mi farà fare tanta canca d'osso, cioè Alien Isolation, che, ovviamente, è uscito da pochissimo, come sapete, avete visto la recensione sul, sul sito, ha preso il suo bel otto e mezzo, il suo bel otto e mezzo che, secondo me, è meritato, comunque ti crea una suspense così alta durante tutto il gioco che, veramente, ti viene voglia di prendere e scappare via, perlomeno a me, personalmente. Cosa importante, domanda che vi faccio subito, vogliamo cominciare dall'inizio o vogliamo cominciare dal salvataggio che ho io della campagna, perché sono andato un po' avanti, poi, ovviamente, ovviamente, ovviamente la cosa è che ho salvato a un certo punto, quindi, non lo so, ma intanto fatemelo sapere nella chat. Saluto a tutti quanti, braccio che mi dice, mi è sto uscendo dalle pareti? No, perché, a quanto pare, io sono qua e le pareti intorno, ho solo un armadio dietro, però, diciamo così. Allora, 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 intanto che mi dite un po' di partire dal salvataggio, quindi va bene. Siccome in redazione c'è Jimbo, noi qui non siamo da meno, perché qui siamo swag, e abbiamo Ugo, la maglietta, non guardatela, perché è del Milan, quindi, no, vabbè, non mi fa senso girare, che poi vedo un tapiro nudo, non so cos'è, una talpa nuda, però Ugo ci fa compagnia, questa sera siamo da soli, ripeto, qui ci fa compagnia e ci darà una mano nelle situazioni difficili, vero, vero, buon Ugo, ci darà una mano, a superare i momenti di tensione del gioco. Quindi, senza troppi indugi, stiamo qua avendo la stazione sotteritare, partiamo in diretta con il nostro caro Ugo, che adesso, sinceramente, non so dove mettere. Me rotterò qua, sulle balle, così almeno lui guarda, e guardiamo. Insieme a questi, qui non abbiamo il divanetto tattico dove appoggiare il pupazzo. Lo tengo qua sulle gambe, perché non so cosa fare. Piccola, ecco, un'altra piccola prensa, poi cominciamo, ve lo giuro, non faremo, non faremo tardissimo, perché domani a un'università devo rezzarmi tipo alle 6 e mezza, quindi faremo intorno 10 e mezza, 11 e un quarto, così almeno, almeno un'ora e tre quarti di Alien Isolation, ce lo spariamo. Assomiglia Borderlands? Assolutamente, assolutamente, Dottor Weitz, mio caro, assolutamente come Borderlands. Allora, Alien Isolation, Ugo qua mi sta cadendo, Mi sta cadendo, Ugo? Name Sterling? No, siamo ovviamente, come tu ben sai, siamo su Xbox One, perché ho Xbox One, quindi siamo su Xbox One, continuiamo la partita, e praticamente ho giocato non tantissimo, perché poi anche oggi pomeriggio sono dovuto uscire, ecco, università, e quindi ho avuto poco tempo per giocarci, sono arrivato a poco, c'è qualche obiettivo l'ho già sbloccato, perché se poi si va a vedere gli obiettivi ce l'ho già sbloccato, c'è anche Dragon Age Inquisition sulla destra, in primo piano, che uscirà anche lui a breve. Il po' inzaghi alle 5 e un quarto, mi spiace davvero per te, mi spiace davvero per te, ecco, però mi stai un po' sulle barre, nel senso che non perché ti ho messo io, ma perché non so come mettere il controller. Vabbè, teniamo così, tanto mi interessa un po' la comodità nel tenere. Allora, noi siamo arrivati qua, dovremmo avere già il revolver, attenzione, vediamo, ok, abbiamo già il revolver, cosa importante è questa. Allora, adesso dovevo andare, se non sbaglio, da questa parte ci siamo già andati, Oh, usiamo la tessera d'accesso. Ok, ok, ok. Entriamo in questa bellissima zona, questa è una zona che ci propone delle bombe fumogene qua, che non riesco a prendere perché non ho il... Ah no, è vero il progetto, sto guardando le tazze. Perfetto. Allora, vediamo subito di craftarcene una, se riusciamo ad avere... Ok. Abbiazzo magari un pochino l'audio, non dico di gioco perché ho il televisore, però... L'audio del televisur, e vediamo un po' se riusciamo a farne un'altra, perché comunque non vorrei mai restare senza. Non mi piacerebbe molto. Ok. Ok, però mentre il revolver dobbiamo sempre tenercelo a portata di mano. Oh, che bello, qua ho un'altra cassetta. Colla, colla, batterie per torcia. Torcia che abbiamo già, infatti, vedete che siamo già equipaggiati di torcia. Questo qua è vuoto, perfetto, grandissimo troll. Andiamo a vedere adesso. The key. Oddio. Cos'è? Non ditevi come di heavy with ink, che questo qua si sveglia e mi inizia a sparare, a fare cose varie. Eh no, però tu hai tanta bella robina, mi sa, addosso. Colla e pezzi. Tratto, sguardo straunato, che è abbastanza inquietante. Stava guardando, non so, è uscito da lì. Boh, vabbè. Comunque, munizioni revolver che prendiamo. Ma intanto, comunque, qua ci... è venuta fuori una discussione abbastanza filosofica su... su Marx. Va bene. Va bene, ok. No, vabbè. Allora. Abbiamo il revolver. Quindi dobbiamo... In teoria qua non c'era più niente da fare. No. No. Ok, quindi andiamo... Mi si è impallato il gioco? No. Ok, ha avuto un piccolo scatto e ho subito temuto che... Cioè, ha girato per tutto sto bendito di tempo, senza problemi. Oddio. La scatola nera! Estremamente immagino che non funzionerà. Ecco, non mi sono visto alcun tipo di walkthrough. Non ho visto nulla. Ascoltiamo anche YorkPain. Benvenuto. Scatola nera che ovviamente ce l'ha messa nel deretano, perché anzi è uscita dalla fottuta parete e non possiamo usarla. Adesso cosa dobbiamo fare? Questo pulsante verde mi ispira. Ah, usa. E se ne va di là. Un altro pulsante verde. Tanto è già scattato... Ecco, adesso tipo sono nella cacca, perché è già scattato allarme. Perfetto. No? Perfetto. Già scattato allarme. Ora, accogli cellulare dati. Che tratta... Ecco, è quello che mi serve per hackerare le entrate. Perfetto. Perfetto. Polictotto, se vado al buio, siamo nella cacca, perché non mi vedete più. Sostanzialmente è questo il problemino. Qua? No. Dobbiamo andare via, perché non mi sembra che ci sia altro. Usiamo il sintonizzatore. E... Qua. Uno. Oddio, vabbè. Due. E... Tre. Ok. Codice preso. E mo? Qua possiamo aprire? Sì, il sintonizzatore. Pinmax. Per cui non sono partito. Oddio, no, qua devo... Perché mi ho chiesto se volevamo partire da un salvataggio più avanzato, cioè da quello che poi tanto avanzato non è, però ecco. mi salvataggio un po' più avanti rispetto all'inizio che avevo già io, se no partire all'inizio. Mi è stato detto di partire da... Qua c'è una cassetta. Mi è stato detto di partire da... Come si dice? Dalla parte dove avevo salvato e quindi... Niente. Siamo partiti dalla parte dove avevo salvato. Tanto che sotto i titoli avevo già messi in previsione del live, così a... Chi è? Oh, chi è? Ma... What the fuck? Tu sei morto, vero? Sì. Non lo so che cacchia è successo. Piuttosto, dove devo andare? Ah, ai facility. Ok. Quindi adesso in teoria devo... Sì, trovo negatore Sistec. Trovo un modo per arrivarci. Negatore Sistec. Di qua mi sembra chiuso, quindi andiamo di qua. E... Qua? No. Sintorizzatore accendi. Tanto... Altrato tutte le sono arrivati, tipo Link, Toscane... E poi... L'Alien se è già visto, suppongo, no. Perché arriverà, se non sbaglio, fra poco. Quale so? Segnare, no? Uno. Due. E tre. Comunque, ecco, come cosa... Io non sono mai stato un... Cioè, mai stato, in realtà, forse ero anche troppo picco e troppo cagasotto per... Per guardare, però non ho mai guardato un film di Alien, perciò ho dovuto, anche se pochissimo tempo, documentarmi sulla cosa. E devo dire che, in effetti, guardando così due robe buttate lì, per dirvi, eh, su internet... Su internet... Ho riscontrato, e comunque, effettivamente, c'è molta, molta verosimiglianza tra... Le cose che erano effettivamente nel film e le cose... Oh, metta cassetta. E le cose che erano effettivamente... Sono effettivamente, scusate, nel gioco. Cos'altro possiamo craftare, intanto... Razzolo Revolver, vediamo un po' mentre sarebbe più che altro, però, il... Il kit medico. Uno, due, tre. Ah, ok, possiamo farne un altro, ok? Il kit medico è sempre, secondo me, abbastanza interessante e indispensabile. Disabilitiamo l'isolamento. E vediamo che succede. Mi sembra che qua sia il punto O. Buonasera anche a lei. Facciamo tutti un bel buonasera al nostro caro... Non so com'era, xenomorfo. Comunque, io mi chiedo adesso, perché, amica bella... Perché noi abbiamo un revolver della Madonna e noi spariamo qualche colpo in testa, così finiamo subito il gioco e evitiamo fottoni di qualsiasi tipo di sorta. Invece di lasciarlo andare, ma noi no, perché noi siamo sdrogo, siamo furbi e guardiamo un attimo. Ecco, non so se secondo voi i colpi di Rivolterra sarebbero... Cioè, di Rivolterra, di Revolvera, l'inglese, sarebbero bastati a sistemare la faccenda, però, secondo me, no. Dunque, il pupazzo link è Ugo, è, in poche parole, il sostituto di Jimbo. Siccome qui io non posso portarmi Jimbo a casa, essendo comunque la redazione abbastanza lontana, noi abbiamo il pupazzo di casa Mirax, che è Ugo. Non vi prometto che lo porterò a Games Week, perché, poverino, poi si stanca e ha le partite, siccome gioca col Milan, fa i training camp e quant'altro. Non vi prometto che lo porterò, però, ecco, diciamo che deve star sempre tranquillo. Però, per quando c'è possibilità, lo facciamo partecipare. Cioè, poche parole da qui ai prossimi live, in sostanza. Perfetto, adesso dove cacchio dobbiamo andare? Ah, ok, quindi... Forza l'accesso dell'ascensore per la Sigson Communication. Dunque, dunque, dunque... Andiamo alla Sigson. Sì, ecco, magari mi spiace per tutti coloro a cui sto spoilerando la campagna, però so che tanto non giocherete perché vi fa troppa paura, e quindi... E quindi, state attenti, state attenti. Però fare una cosa, non è prima di andare a salvare, sapete? Se si può ancora salvare, perché non voglio poi ricominciare da qui domani, quando vado avanti, quando ho tempo, ovviamente. Prima salvo. Ovviamente è la cosa più importante, perché, come sapete, i punti di salvataggio sono messi, sì, nel gioco, però... Diciamo che non sono così comodissimi da recuperare in certe situazioni, perché, appunto, se vi siete dimenticati un salvataggio da qualche parte, e siete andati abbastanza avanti nel gioco, magari difficile, però magari non avete notato una cabina per salvare, siete fregati, perché comunque dovete ricominciare dall'ultimo punto, che magari dall'altra parte della mappa dovete rifarvi una porzione abbastanza importante di storia e di mappa. Quindi, ecco. Ok, allora. Uno, due... Allora, questi qua sono abbastanza banali. Cioè, in realtà, sono tutti banali, credo. Perché non è che ti possono mettere un... un codice... Tanto abbiamo un piccolo bug, signori. Non so voi, ma notate le pistole che stanno mirando a non si sa che cosa. Oddio. Oh, signor. Dov'è? Suppongo sia andato via, però mi prendo alla larga. Ah, devo andare all'ascensore. Ehi, vieni qua. Cosa mi dice che non lo vedrò proprio? Perché ecco, il fatto di Alien Isolation non è il fatto di Jumpscare e... Cos'è stato? Effettivamente, parlando, non sono Jumpscare, però è tutto un miscuio di tutta quella agitazione che vi fa venire un cagotto abbastanza incontrollabile, come a me in questo momento che è abbastanza interessante il movimento di sensazioni che uno prova, che, ecco, ti fa stare veramente, veramente teso. Ok, andiamo al Sigson. Ah, e mi ha sporcato anche la cifra. Perfetto. Ah, ho già spoilerato il finale, Link. Poi, tra le due, non tantissimo, credo, fino a 10 e mezza, 11 e un quarto, perché, ripeto, domani devo alzare in presto per andare in università. E' tanto appunto, lo state anche discutendo sul bug, mi fa molto piacere, perché le pistole che puntavano così per aria, lasciamo stare. Qualcosa tipo radar più pinzaghi mi sembra che sia dopo, non vorrei dire stupiate, però sicuramente non ce l'ho già ancora, se no stare lì veramente con radar puntata a vedere se ho qualcuno in mezzo alle balle. Ehm, salutiamo anche Armi The Best. In che senso cosa faccio io, Spotty? Se mi specifichi questa cosa... Oh, oh, c'è un tizio lì. Beh? Ah, questo qua sono gli androidi, allora. Ok, ok, questi qua sono gli androidi. E qua cosa abbiamo? Una beata fava. Una beata fava e qua ripristina la corrente. Adesso vediamo di ripristinare la corrente e poi vediamo che fare. Buonasera, vedo che mi sta guardando abbastanza interessante, so che sono abbastanza carina. Abbastanza inquietante è il nostro amico. Vediamo di riuscire, perlomeno speriamo di riuscire a craftare un'altra bomba fumogena. Ok. E razzi, no, i razzi non si possono craftare direi, no, io però tengo il revolver. Insomma, va bene tutto però... Oddio, e lì c'è il mondo. Qua ovviamente non ci sarà niente di aperto. Vediamo un po' di qua cosa ci offre la casa. Ah, un passaggio alternativo che non credo porti a nulla. No, infatti no. Intanto mi sembra che stia un po' scatticchiando, non so se è perché mi incastro nei tubi, però mi sembra che stia un po' scatticchiando il gioco. Mi sembra proprio di sì. Allora. Buonasera. Agli occhi un po' spiritati. Apollo è tutto sotto controllo. Intanto vediamo. Mark Bucket, sì, sto... Sto giocando su One... Ah, spotty, faccio lingue. Lingue, Università Cattolica di Milano. Link, la prima volta, sì. Probabilmente so che mi pesterai... Ma che vuoi? Ma fammi fare i fattacci miei, non ho capito. Cioè... Mi sembra abbastanza trafficata come zona questa. Non vorrei tipo avere un bordello dopo qua perché con 726.000 robot in mezzo alle balle... Diciamo che non mi piace la cosa. Allora, vediamo. Mi sembra una zona abbastanza interessante questa. Ok, ok. Ah, no, qua cos'è? Scrap. No, pezzi di metallo. Sì, che poi sarebbe scrap. Razzo. Dov'è il razzo? Il razzo lo prendiamo. Non vuoi che questo qua venisse qua a rompere le balle perché... Altoparlanti, illuminazione, purificazione aria. Vabbè, ok. Per adesso. Non mi... Non mi interessa particolarmente. Batteria scarica, raccogliamo etanolo. Ah, no, vuol dire che devo attivare... No, purificazione aria sinceramente non mi interessa, però... Devo attivare la corrente. E qua la corrente dove l'attivo... Ah, no, questo qua raccoglia l'erivatore di movimento. Mi sta... Ecco, la patch me l'ha fatta. Però... Va abbastanza a scatti. Sì, caro. Si faccia un po' i fattacci suoi, per favore. Grazie. Molto gentile. Sono... Ci metto la mano sul fuoco... Cioè, ci metto la mano sul fuoco... Che dopo questo qua mi rompe le balle. O meglio, questi qua perché c'è il mondo... Della domotica, non so cosa ho detto, però vabbè. Ok, ok. Accesso al portale... Se avete... Ok. Ah, abbiamo aperto di qua. Va bene. Qua ci nascondiamo e non mi interessa. Perchè trema ogni tanto il... Il controllo... Dai che ho le pighe che non vorrei che si scaricasse. Oh, salvataggio. Qual buon vento. Dai. Markbucket a cari di frame... Sì, perché comunque... Ogni tanto ho notato, ripeto, la patch l'ho fatta. Magari se ti sei connesso adesso, però... Ha dei cari di frame, ho notato in questo momento. Ha dei cari di frame che non mi... Quindi se io guardo di qua mi dice... E devo andare di là. No, però di qua ci sarà qualcosa, eh. Perché c'è il punto errore da togliere. In che anni è ambientato? Mi sembra 2050 qualcosa. Però almeno io non lo so, ripeto, non sono stato fan di Alien. Prima perché ero piccolino, poi sinceramente perché non è una saga che ho seguito. E anche nonostante essendo più giovane da... Da seguire dopo. Però credo... 2500. Ecco, se c'è qualcuno più informato... Si esprima pure in chat, che almeno può rispondere. La radio mi sembra abbastanza... Cassa acustica. No. Così... Cassa acustica. Cosa mi serve? Per costanza acustica. Tira attenzione. Se tira circa 4 secondi dopo che è stato piazzato. Vabbè. Oh. Benvengano. Non si sa... Non si sa mai. Usa la leva. Tieni premuto il T. E adesso è giù. Ok. No, qua mi devo nascondere. Ah, buongiorno. Mi sembra che abbia gli occhi un po' spiritati. Ah, 2100 qualcosa, mi dice Marbacher. Ok, grazie mille. Ah, forse sento qua, mi dice. Ah, proprio così. Gentilissimo. Benvenuto a Sevastopol. Deve esserci un altro modo per entrare. Trova un altro modo. Questi qua sono tutti solo per nascondersi. Qua giocano a nascondino in sta cazzarola di astronave, cioè. Qua ci offre... Oh. Beh. Spotlight Japscare... Non ci sono. Cioè, voglio dire, a meno che... Vabbè, par conto che io sono abbastanza la tipo Lorenzo, eh. Ok, intanto qua. Intanto qua ci... Ecco, ci sono un po' tipo Lorenzo. Perché anche io non gioco molto agli horror, sinceramente non mi interessa. Sto aspettando Code che esce fra due settimane, mannaggia l'oro, non potevano farlo uscire prima. E quindi nulla, cioè, voglio dire. Sono più interessato a Code. Ecco, tammi. Come si chiama il canale? Ho i video sui giochi di Facebook. Si chiama MaxMira, credo, qualcosa del genere. Chi è che sta parlando? Come... Come è fatta a beccarmi? Ehi. Ehi, 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 ehi. Ah, proprio... Aia. Ai, ai, ai. Che dolore. Buona giornata, perfetto. Tipo l'ha trovato anche alla fine. Saluti anche... Ok? Quando muore qualcuno, credo abbastanza presto. Perché quando poi, forse dopo, ci sarà una situazione concitata, io non sono la persona più adatta per queste cose. Qui, tranquilli, state sicuri che morirò anch'io e anche parecchie volte. Anzi, fate già un po'... Fate un po' già chi tiene il count delle morti, perché... Qua si morirà parecchie volte, ragazzi, eh. Eccala. Dai, ascensore schifoso. Ti vuoi muovere o mi devi far girare le balle? Madonna, gli ascensori quando servono... Proprio non ci sono mai quando servono. Madonna. Oh. Oh, oh, oh. 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 Oh, intanto qua serviamo. Ok. Vediamo un po', qua non credo ci siano dei rompiballe. No, quelli sono giù. Di qua? Oh, sì, un bel po' di... Un bel po' di robina da prendere. Dunque, come... Allora, uno, due, tre. A posto, anche questo. Prendiamo la colla. Oh, un bel box. Pezzi di metallo inietto. Vediamo un po' intanto cos'altro si può... Perché qua non si chiude? No? Mi confondo sempre con... Le cose da... Da schiacciare. Cioè, veramente. No? No. Ok, ci manca un pezzo, quindi qua non possiamo farlo. Qualsiasi altra cosa che si possa fare, no, eh. Ci manca sempre i sensori. Ma... Che cacchio... Cassa acustica. No. E senza sensori, ragazzi, non si vada da nessuna parte. No, tienti revolver, amico mio. Che proprio... Non mi sembra il caso qua di... Di stare tanta bambolanare su sta cosa. C'è le comunicazioni esterne. Oh, perfetto. Se ricablaggio cosa posso fare? Trovo un altro terminale per comunicazioni. Video attivo, purificazione, aree attivo. Ma sì, tanto che... Che c'è frega. Che c'è frega e che c'è frega. Ah, sulle scale abbiamo appurato che non c'è nessuno. Adesso la cosa bella è che secondo me qua fisso c'è qualcuno, ragazzi. Qua non si scappa. Ci sarà qualcuno, eh. Eccola, la vedi? C'è qualcuno che rompe... Ovviamente le balle. Ed è tipo qui dietro. Perfetto. Vediamo se... Uddio. Ma porca! Bottana la misera, ragazzi. Mi stanno già sgamando. Perfetto. Madonna, ma vuoi andare via? Perché qua mi sgamano fisso. C'è, non c'è niente da fare. E se io provo ad andare di qua? Ehi, ehi, ehi. Tipo starò qua mezz'ora. Non so dove andare, ragazzi. La situazione è abbastanza grigia. Vabbè, se lui sta di là, io però potrei provare ad andare di qua. E lui è qua. Porca miseria. Porca miseria. E' andato via? Uff. Oddio, ce l'abbiamo fatta. Ok. Poi, in teoria, comunque, la cosa che magari sono anche abbastanza... Si possono eludere facilmente i bot. Che poi dico i bot, i bot mi sembrano quelli di code. Però dico i bot, gli android, i te. Ok, allora qua, chi abbiamo? Dietro. Ah, no, ok. Sono abbastanza in tensione alta, perché più che alto, come avete potuto capire, non è il problema del jumpscare, ma è il problema dei bot. Di qua dove si va? Si va giù, ma giù per dove? Ops. Qua? Cosa succede? Ok. Sì, direi che possiamo far così. Sta arrivando un rompipalle. Dov'è andato? Ah, bravissimo. Vai, vai, vai pure. Vai di là, tranquillo, che io... Intanto vado di qua. Perché devo andare di qua. Mi state dicendo che è qua? Che siamo arrivati? Ah. Ok. Venite fuori. Uno abbiamo preso. Ovviamente non ce n'è nessun altro, perché ecco la fortuna che ho. Allora. Vai su, veloce! Ok. Dobbiamo spostare i valori. Valori. Ok. Bloccato. E qua. Ancora. Ma cosa mi fate i... Cioè, più divertente è Pac-Man, credo, per gli anni Ottanta. Cioè... Lian, credo che arriverà dopo. Mr. Charles ha la potuta che mi fa abbastanza ridere. Prego, mi segua dopo una scazzottata citazione da parte dell'Android. Secondo me... Secondo me... Secondo me mi fa ridere, non lo so, perché è stata copriente a Mr. Charles. Oppure, ti vorrei anche dire, dopo che fai una rissa, risolviamo la questione pacificamente. Risolviamo la questione in maniera pacifica. Tatti il filmatino... Si nota comunque un po' di caudi frame, perché comunque, ragazzi, è normale. È normale, in teoria... Cioè, non lo so se è normale, però voglio dire, un po' si... si nota, no? Non so, mi sembra la chat morta, che non vedo più scritto nulla. Non so se siete ancora qui, fate... fate un cenno. Ma dai, ma che... Pah, me lo immaginavo che ci fosse il... Cazzo, non si dicono le parolacce. Allora, mi sto infognando? Ah, ok, ma io non devo andare di qua, però. Urca vacca, aiuto. Ehi, ehi, no, no, no. Dove sta andando qua l'amico? Ah, lui è là, ma... Vieni via anche te, vero? Sì, però per certo perché si la sarà un problema dopo. No, dove vado? Non so se sta qua o va via. Ok, allora, sono usciti. Vediamo di non farci sgamare bellamente. Sono andati di là. Ma perché devo andarci anch'io, scusate? Ecco qua. Ecco qua, madonna mia, ragazzi. Oddio, proprio. Devi morire. Qua ha fatto un altro scatto. Qua mi registra il clip di gioco così a random. Cioè, ragazzi... Ugo, porca miseria. Cioè... Porca miseria, Ugo. Porca miseria. Hai un po' di problemi alla gola, però, te, amico. Ok, qui non c'è nessuno. Non so se mi convenga più che altro usare sto cannone che ho in mano. Perché ce l'ho? Ce l'ho dietro. Certo? Vediamo un po'. Oddio. Stiamo andando senza neanche troppi... Inconvenienti... Ecco, adesso me la sono tirata. Senza neanche troppi inconvenienti... Via, via. Tranquillo. Tranquillo. Amico. Ah, qui dobbiamo ritornare di là. Ma direi perfetto, ragazzi. Perchè il vero problema qua... E' capire da che parte prendere questa zona. Avete tutto il cannone in mano. Mi fa molto piacere, porca vacca. A parte il fatto che è qua. Ecco qua. Perfetto. Oddio, ma non muore, ragazzi. Con quattro colpi alla testa. Oddio. Ma come? Ho finito i colpi? No, no. Sono morto. Sono morto, ragazzi. Ahia. Mi sa che sono morto. Vediamo un po' se riusciamo a correre. Se veramente sono così deficienti i bot da riuscire a scappare. Io sapevo che prima o poi mi facevano sgamare. Ma dico, ma il tipo non poteva farci i cazzacci suoi? Ma se io salvo adesso cosa mi succede? Sì, salvo così. Salvo mentre... Mentre mi stanno correndo... Uh. Oddio. Oddio, ragazzi. Momento. Momento di calma. Un momento. Kit medico. Il problema è che ho finito... Il problema è che ho finito i colpi per il revolver. Ma come cacchio il ricarico? Perché secondo me qua non è finita la situazione. Oh, ricarica, va bene. Sì, Pippo e Zag, anche a me spaventano gli androidi. Cioè, ma davvero? Mi fa venire i fotoni, mi fa venire gli androidi. Se vado di qua... Che succede? Eh, allora, allora. Beh. Comunque ecco, sappiamo che con tre colpi alla testa sti cosi qua non muoiono. Ah no. Infatti, sembra strano che dovessi tornare di qua. Devo ripassare dalla zona centrale. Molto bene! Perché ce n'è uno dietro? Devo andare dritto. Devo andare dritto, devo andare dritto. Ah, nel nostro amico purtroppo deceduto. Eh no, è però. Oddio, ma è lì in fondo, ma non l'ho visto. Ma me ne sono accorto dopo. Ma dov'è questo, scusate? Vediamo un po' se di qua riusciamo a fare... Manovre evasive, signori, manovre evasive. Qua tipo ci sarà il mondo di bot. Ok. Sto, sto pezzando come un disperato, eh. Ok, dobbiamo tornare di qua. Forse magari potrei anche provare a qualche, eh, manovra evasiva. Ups, qua c'è. Vediamo un po', cucù. Ma perché mi dice che sono tipo a due centimetri da me mentre poi non è vero? Che mi sta trollando? Cioè, ovviamente un posto di là è chiuso. Ok, che è? Di qua? No, di qua non ci sarà niente. Dobbiamo andare di qua. Dobbiamo andare di qua. Dobbiamo andare di qua. Allora, di qua sulle scale... Sì, sulle scale non viene mai nessuno. Poi comunque è anche un gioco molto lento perché se notate ci sono un sacco di punti... Poi, no, tutta la sensazione qua. Vedete che la sto facendo in... In camminata adagiata così, tranquilli. Che cavolo è? Dov'è questo qua? Sì? Sì, prego. Qualcuno che vuole mostrarsi... Ah, questo qua sono i rompiballi di prima, è vero? Sta andando via. Ah, ecco, perfetto. Di qua non posso neanche uscire. Vabbè, molto bene. Molto, molto bene. Intanto, dobbiamo aspettare che ripassi perché io qua non posso... Cioè, è lì. Sta grattando. Non c'è qualche porta qui, eh. No, proprio un piacere al buon dottor Mirax. No, eh. Grazie. Ma cosa sta facendo quello lì? Scusatemi. Ehi, vieni qua. C'ho un cannone in mano e non ho paura di usarlo. Ah, sta andando avanti. Sta andando avanti, vero? Oh, cazzo, no, è la fermo. No, devo aspettare un attimo. Eh, intanto state... Eh, intanto state... State praticamente parlando di Wii, ok. Ma chi è che c'ho dietro? Boh. Ups. E' vero che aspetti un attimo a scendere? Bravissimo. E' vero che mi vado... Me ne vado... Sniki, sniki. Via. Vero? Ma non puoi tornarti in... Oh, cacchia, ho aiuto. Mi sembra che tu sia abbastanza rompiballe, né? Mi sembra. Io però me ne voglio andare. E non è che posso buttare via i colpi con uno stronzo come te. Scusate ma la parola ci sta perché è qua e io aspetto che se ne vada. Bravissimo. Poi è veramente di qua che devo andare. Sì. Oddio! Ciao! No, ma dai! Ma cosa vuoi? Venga con me, per favore. Lascia che l'aiuti. Per favore. Cosa vuoi? Sì, anche lei. Permesso. Aia, mi ha tirato un cazzottone sul naso. Ok, ragazzi. Dovete correre. Quando siete in difficoltà, correte. Non scappi. Io credo invece di sì, amico mio. Dai, questo comando che si prende. Eh, però non ho usato neanche un colpo, va. Dunque, 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 dunque. Intanto vediamo un po' se... Tutto a posto, Ugo. Ugo, a quanto pare, va tutto bene. Mi sto leggermente accaldando con Ugo qua. Però, Ugo, gli vogliam bene. Gli vogliam bene, gli vogliam bene noi a Ugo. Allora, allora, allora. Tanto vedo che comunque, con l'orario che avanza, la gente aumenta. Quindi la gente, a quanto pare, sonnambula. Vuole prendersi dei bei... Non dico più già uno scherzo, dico fottoni. Allora, perché noi siamo proprio italiani. E... E quindi nulla. Ecco, diciamo che siamo... Siamo tutti qua prendici dei bei fottoni tutti insieme. Oddio. Mi ti mette un'ansia che tipo... Col sudore di una scia può riempirci una bacinella. Non lo so. Ma veramente, non so voi, ma veramente questo sudore perché oggi posso riempire una bacinella d'acqua. E ci lavo i panni. Ah, caro Ugo. No, Link, non lo bagniamo perché sappiamo che... è un bravo ragazzo e... non dobbiamo fare gli... Ehi. Non mi piace sta cosa perché so perennemente... Ma ancora? Ma basta, mi scusi? Mi scusi, mi ha rotto un po' le scatole. Cioè, ma non eravate tutti lì dentro? E che porca miseria, oh! Ma se vuole acquire sta porta, devo prendere al cazzotti. Ma perché c'ho sempre qualcuno alle spalle? Me lo volete dire? Da qua? Ah, ok, dobbiamo tornare alla Tower Link. Mi sembra... Ecco, tra l'altro Link, vedi, sei anche nominato, Tower Link. Mi sa che è la tua torre. Spotty mi chiede, in questo periodo, oltre a dare... O vede, salviamo, perché non si può non salvare. Solo un babbo non... Mi sono perso con quello che stavo dicendo, perché stavo facendo due cose. A che tipo sto giocando? Adesso vi faccio vedere un'altra. In un dato, appunto, ripeto, salviamo, che è la cosa più importante. Dobbiamo andare... Ma dov'è che esco il... Beh? Che vuoi? Ehi, oh! Che vuoi? Cosa facciamo, ragazzi? Mettiamo in pausa un attimo. Cosa facciamo? Riammazziamo? Così vediamo cosa hanno dentro i vestiti. Intanto ci prendiamo un attimo di pausa. Ci vediamo in attimo di pa... Intanto sto rivedendo la scena adesso di quando vi metto a prendere i mirini. Ammirare a prendere i mirini, ragazzi. Non ci siamo più. Ammirare... Simone X... Non te dice Jackie Chan. Intanto fate sapere cosa facciamo con questi qua. Vi spariamo. Madonna che gazelle. No. Oh. Oh no! No no no! No 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 no! Addio! Ma no, è la sala macchine! Ho fatto una cavolata. Cos'è sto obiettivo? Non dovrebbe essere lì. Ho fatto una cavolata. Hai completato SIGS? Ah, ok, vabbè, è l'obiettivo. Comunque no, non devo andare lì. Abbiamo imparato che sparando siamo nella cacca. Pupuigato, 3, 2, 1. Effettivamente, effettivamente sì. Perché ti sei beccato un alieno così che passava di là e che hai sentito. quindi ragazzi non usiamo la pistola. E a parte che a parte che abbiamo i colpi contati quindi ho fatto leggermente una puttanata diciamo così che fa un colpo che si faccia il nostro caro amico raggiungi la torre Shemed mi dà già l'obiettivo mentre sta ancora caricando beh non si può star dentro però però a me interessa questo dov'è che mi porta? Ah, raggiungi la torre Shemed quindi girato tutto a destra quindi questo Ehi, 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 ehi No, non può essersi spostato così velocemente l'alien da una parte all'altra ragazzi Muoviti navetta Oddio No Stavo scherzando Stavo scherzando Stavo scherzando Mi si è buggato il gioco? Cos'è successo? Ah Eh però ragazzi Ah no pensavo fosse l'obiettivo Siamo morti No, beh Carica e salataggio attuale Sì Va benissimo Va benissimo Va benissimo Va benissimo Pensavo mi avessero sbloccato l'obiettivo invece no Mi ha praticamente registrato la clip Tanto che bella manina che era la grande Secondo dovrebbe farsi un po' di manicure Diego 89 Appena iniziato il gioco No Sarà Sarà in quanto 3-4 ore che sto giocando tra incluso oggi per quel poco è un po' proprio un pochino pomeriggio per non farvi vedere la parte dell'altra volta Spie di Rax grazie alla Doom e intanto grazie anche per chiunque mi tenga il death counter Però se in gente pensavo io non facesse mi fanno più paura gli androidi non so voi però ho più paura degli androidi piuttosto che di Arena Arena c'è proprio la faccia simpatica come non so una faccia giocosa ecco come appendere in camera io ho un bel poster dell'android no dell'android android a parte che è il cellulare però dell'alieno adesso abbiamo capito che comunque è la mappa mi interessa se va a stop or se va a stop or sa la macchina no ma dov'è ah Torre Shmied noi stiamo guardando di là quindi a questa e questa in retta diretta la Torre Shmied di Sevastopol ok solita però l'abbiamo preso giusto in effetti la paura viene Pippo perché avere un alien però ecco può essere invece di un cane ragazzi per giocare per giocare per difendervi prendetevi un alien lo trovate in tutti i migliori no canili ma alienili d'Italia cercate sul sito e al posto di un cane prendetevi un vostro alieno personale da difesa ok dopo questo momento di pazzia dopo questo momento di pazzia torniamo al caricamento che tipo è lungo vent'anni è lungo vent'anni sporti se dormirò con Ugo secondo me no perché credo che lui lo lascerò in bagno visto che secondo me mi sembra abbastanza marrone sarebbe un po' spagmata dappertutto e quindi lo lasceremo in bagno a lavarsi oh compa aspetta ma io voglio vedere devo fare due cose prima prima di venire da sti rompiballe kit medico non posso craftarmene uno si ma guarda quanti ne posso fare ne posso fare a bizzeffe sporti a un pregi da difesa esatto mister chars non abbandonate gli alieni d'estate in autostrada potrebbero provocare incidenti improvvisi e quindi essere anche un pericolo per i guidatori eccono colpi di revolver io le ricarico così almeno l'alien's week viene fatta in sardegna sai che non te lo so dire link io ci andrei quest'estate ehi bello tu si che mi stai simpatico a parte le animazioni facciai che fanno abbastanza ridere però ecco c'è un po' da lavorare sulle animazioni facciai perché ti salva la testa giù poi in presa la mossa sua inizia a guardare la tipa tanto ecco sì una volta che uno guarda un gioco del genere gli viene anche ma io voglio ricaricare l'arma ok facciamo un colpo alla volta perché noi abbiamo tutto il tempo del mondo ok ho capito che devo tenere premuto x ma cosa devo fare io scusate che ho parlato e mi sono perso chi è che si è connesso vb matteo ciao vb matteo ma se lo sparo qua ad esempio l'alien viene qua e ci ammazza tutti secondo voi potrebbe essere una tattica da provare così per vedere se l'alien no però qui mi devo anche medicare un attimo vai su mi sembra molto blood dragon come si come si pompa la siringa nelle vene non tutti hanno un alien no infatti l'alien è un po' più costoso però vi proteggerà bene di qua non è che c'è qualche altro androide che mi rompe le balle vero ma è pieno di androidi ragazzi ma che dupalle che è? ah vabbè si è aperta la tapparella qua non c'è niente di ah chi è questa buona anima pia che ci sta dando una mano un medico a quanto pare o qualche androide stronzo ecco diciamo così magictoni è scomparso ragazzi si effettivamente non si vede più ecco Diego non ho provato porca miseria ho letto dopo e volevo provare sparare per vedere se alguien arrivava lì e zan 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 finiva il gioco non so non c'è un finale così un obiettivo siccome anch'io come Fire sono abbastanza malato di achievements e quindi cerco sempre di aggirare i giochi ecco tra l'altro adesso vi faccio vedere una cosa magari la faccio vedere tra 20 minuti quando finiamo il live vabbè qua vediamo in tutto cosa c'è gli ufficiali hanno sigillato tutto però a me interessa qualcosa di di roba da cercare no? qua non c'è niente proprio manco nel Burundi adesso magari il Burundi è un paese ricchissimo però qui non c'è nulla qua proprio ma non c'è niente ma dai ma dai ma dai a quanto pare si parla di patente ah VB Matteo la patente in bocca al lupo VB Matteo in bocca al lupo e mi raccomando non investire gli alien una volta che sarai sull'autostrada perché ormai il nostro motto è non abbandonate gli alien non lasciateli soli e qua e la madò cos'è un tiro in contromano cioè madò ma che è più che altro ecco appunto come ti dice giustamente anche Pippinzaghi i quiz sono abbastanza simili vuol dire una volta che hai fatto magari il libretto è perché adesso non so io ho fatto tre anni fa la patente e no a novembre faccio quattro anni che ho che ho la patente qua non mi fido di sta zona per niente sta andando a scatti ecco però non so perché mi sembra quando ho fatto il play live non andava a scatti a me va a scatti vabbè comunque vi dicevo quando ho fatto io quattro anni fa la patente quasi quattro anni fa i quiz erano tipo ancora unificati quindi ce n'erano solamente dieci argomenti diversi con oh salviamo perché ci sta ce n'erano tipo diversi però su dieci argomenti con tre domande ciascuno invece sono 40 di 40 argomenti diversi che in effetti oh buonasera questo è tipo immerso nel gel o è il vetro che fa questo effetto qua scusatemi beh non lo so è così per sapere c'è una registrazione per me questo qua muore dopo quanto ci scommettiamo c'è il dottor Wates Wates ormai ci stiamo coniando tutti i modi possibili immaginabili di chiamare il buon dottor Wates Wates con i Wates Wates Wides ormai c'è tutto c'è di tutto però non c'è perché mi sembra è andata a vedere Grey Sanat non dite me che sta guardando anche qui Grey Sanatomi adesso qua esce l'alien col suo bel sorriso smagliante no scherzo non viene l'alien perché a quanto detto dal Valentini e al quale io credo l'alien non si trova nei condotti possiamo anche rattarci qualcosa perché visto che abbiamo preso granate e flash come a COD le stun me ne manca uno oh ah ok avevo qualche problemino a sistemare il tutto vediamo un po' qualcos'altro da cassa acustica ecco però in effetti i nostri amici bot androidi perché vi sempre dire bot non lo so perché come sono abituato sì cioè ho preparato le cose e non le ho fatte sarò anche rimbambito ah ma è già posto devo solo craftarlo ok kit medico non c'è nu eh no mi manca un pezzo ok vabbè oh beh etanolo no mi sembrava whisky come lo impiego io l'etanolo però no qua non c'è mi sbaglio sempre con i tasti scusatemi qua non possiamo ma l'etanolo a cosa serve? no a cosa serve l'etanolo sinceramente perché sono pieno ma razzo ma il razzo non puoi craftarlo no però ecco la dog tag la prendo il dog tag madonna ragazzi ma veramente cod cioè davvero cod possiamo fare un bel update della mappa vediamo un po' allora dobbiamo andare lì c'è una scaletta che mi ispira alquanto no devo andare di qua ah no ok ma perché c'hanno tutti sti giochini moncoprettici qua in sta stazione cioè ragazzi ma veramente niente ma infatti veramente si potrebbe fare whisky con con l'etanolo perché veramente sembra una bottiglia di jack daniels no qua non c'è nulla allora non c'è niente da fare si deve andare di qua usa leva usa leva tieni premuta lt giù oh le ma what what a fuck momento ah che bello si si ah dottore sempre lei mi scusi ma ho sbagliato strada vado non si preoccupi allora ritorniamo nel condotto ecco forse una cosa che non mi piace molto a parte il file genere comunque mette attenzione a quello ok però è che non so la strada cioè ma porca misera dove devo andare di qua perché indietro ah che troll che troll davvero che trollata qua no devo andare di qua oddio ma dove ci stiamo addentrando riproduci ma stai zitto ma che vuoi vado dove mi pare piace non rompere le balde no quanto pare questa non no se vado di qua ma io voglio trovare qualcosa oh santo cielo momento di silenzio perché non so se qui viene giù qualcosa o qualcuno are in cucu non c'è nessuno ma come dispositivo non valdo vediamo Allora, mi sembra che sia il primo questo No, porca miseria Allora, dobbiamo rifare Mannaggia a me, anche io che ho un'incapacità nel risolvere Allora, qua, questo e questo Oh, è codice d'ascesso, stavo dicendo No, buonasera, non è che anche questo qua prende vita, magari Tanto si è mosso Così un po' random, tanto per Pubblicano audio, errore, avamposto del progresso Ah, 1702, ma ce l'ho già il badge Ma mannaggia a te, ma non potevi andarti da quel paese Eccola Ma come il dispositivo... perché Sigumina poi mi dice che è il dispositivo non valido? Ma non può spegnere... visto che sta controllando lui, non può spegnere l'allarme Oddio, no, no, eieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieie la testa è un po' lunga, direi che è un po' lunga se se ne va di là mi fa un piacere oh, 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 eh zio dov'è? e di qua oh, oh buonasera oh, cacchio, no, 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 ehi, 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 ehi un momento un momento, qua c'è qualcosa che che non qua, c'è qualquadra che non cosa, ragazzi, eh? dove è andato? c'è l'ho dietro ma dai, ma che bel sorrisino, ma che bel sorrisino, carino proprio Ugo Ugo dacci una mano dacci una mano, Ugo, dacci una mano, per favore effettivamente potevo usare un diversivo, visto che c'è l'ho, ne ho craftati 47.000, dovevo usarli ah, allora abbiamo salvato, vabbè, dai neanche tanto tanto in lava va bene va bene, va bene sì, in effetti sì, in effetti Pippo Inzaghi o porca troia penso sia riferito bellamente all'alien perché vedete che comunque non fa paura la tensione è che ovviamente si spera che non vi becchi allora comunque io direi che possiamo far così perché siccome l'alien non non serve a nulla ecco qua, intanto mi devo ripetere tutto perché ovviamente non ti salva tutto quanto non so se queste cassette di riproduzione siano effettivamente qualcosa che possa sbloccare un obiettivo o che comunque o che comunque mi possa dare qualcosa in più però io le prendo pezzi di metallo e raccogli il badge e qua abbiamo capito che tanto l'alieno non viene a rompere le balle e noi dobbiamo andare nello studio della dottoressa Pinco Pallino ok 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 segnare individuato ok allora uno due tre molto bene ma perché c'ho il kit medico scusami cioè t'ho detto mi devi dare la cassa acustica accediamo al terminale ecco in effetti potrebbe anche starci non so che lo pensate voi magari un paragone tra Dievi e Whedin che ovviamente sono no forse non si può neanche fare però ecco sono tutti giochi che mirano più ecco forse no Dievi e Whedin è più 17.02 sì ho capito che è quello di prima dai su tal so che adesso provi da allarme e quant'altro ecco per Fate 289 facciamo circa ancora un quarto d'ora per colpa mia diciamo perché poi domani ho l'università adesso si ritorna qua è andato ancora scatti no stavolta però mi metto qua sotto mi metto qui sotto così non vedo la testa cioè se mi sgama qua siamo nella cacca oh amore mio che bel piedino che hai una bella scarpetta qua sento qua credo non mi becchi infatti no perché poi devo andare sì di là non so dove è andato mi sto letteralmente cagando addosso ragazzi perché non so dove è andato dove sei andato oh cazzarola vedo andare di là un momento un momento un momento allora 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 ma è qui a destra vediamo un po' se vediamo un po' se se sgama 1 7 0 2 non credo affatto di essere al sicuro comunque ragazzi non credo proprio di essere al sicuro ma qua non c'è un salvataggio è che questo qua viene qua a cercarmi infatti infatti è qua te che rompe i ball no non c'è intanto vediamo un po' la chat oh buon di bonjour 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 comtour bonjour comtour ci vedi se non viene qua a rompere le balle il problema è che è qua ma non 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 so è sempre qui in zona mi sa no è andato via no non di qua che fail ma sarò anche un piccio eh cioè ho preso l'armadietto alieno oh porca miseria è andato via ma perché devo ancora tornare di là scusate ma non mi sono già fatto abbastanza no un attimo provare a craftare qualcosa un attimo che voglio farlo dallo sgabuzzino ah perfetto non si può ok dov'è è ancora qui in zona che raspa oh madosca ah salut i spot tanto adesso anche noi fra poco chiuderemo madoma è sempre lì ragazzi cioè l'altro la camminata non è neanche non è perfetta perché comunque fa un po' fa un po' tipo passo pattinato non lo so non lo so va bene è vero che ho finito le trappole sonore è quello il bello è quello il bello tanto il nostro amico alien ci terrà compagnia è sempre qua vicino no è andato via ma di qua non c'è niente che si può craftare vuoi dire che dobbiamo andare di qua eccala ma perché dobbiamo andare dalla stessa parte dove è andato lui no andiamo di qua qui cosa c'è sensore vediamo un po' se qua c'è un salataggio qui se c'è il salataggio chiudiamo ho la tensione abbastanza palpitante non c'è un benedetto salataggio ecco è sempre qua madosca è sempre qua è sempre qua sì army finisce il gioco non credo proprio buonanotte people buonanotte people spero che anche tu giocherai ad alien isolation perché secondo me ti piacerà un sacco è qua vicino è qua vicino penso so che Pippo anche università quindi no 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 di qua cosa c'è tanti del revolver non me ne faccio nulla perché c'è sta scarpa che si muove da sola ma sta passando di qua sì ma non si riesce ad andare avanti santo dio e si è andato via oh sentite che bel versetto come un neonato il caro amico come un neonato ups mi sembra lì dietro spero non mi abbia sgamato perché se no vediamo un po' se riusciamo a distrarlo con qualcosa questa cassa acustica che non ho porca miseria adesso dov'è che dobbiamo andare però noi che io non lo so sa certamente ma gli serve il tuo aiuto ok ma dove devo andare per qua mi da tipo non mi da più la rotellina dell'obiettivo che mi dice dove andare è qua è qua è qua è qua è andato via andiamo andiamo probabilmente mi sono perso qualcosa vediamo di qua cosa cosa ci propone no perlomeno all'uscina della bomba fumogena ci da in caso comunque un po' di torcia ci vuole aspetta un attimo che non voglio uscire qua la sorpresina ad osso adesso mi dice nella 27 dobbiamo andare pezzi di metallo beggia usa e cosa me ne faccio non so cosa me ne devo fare vabbè vabbè quanto pare l'amico non non si fa vedere no ehi ehi che cos'è sta cosa no riattiviamo la purificazione uh e se no qua mi sembra le nebbie della Valpadana in pieno novembre no se lui entra dalla fottuta porta io mi nascondo nel fottuto armadietto che c'è nella stanza ehi 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 è paragonabile a dead space dal punto di vista dell'atmosfera secondo me dead space è molto più dark e dead space comunque è un forse prettamente horror sì perché horror sono tutte e due però più azione secondo me non vorrei dire più una stupita però secondo me forse è un po' più azione tanto mi è andato via no è proprio qua a fianco a me tipo eccala poi c'è la musichetta oh ciao ci fa visita a quanto pare ma si muove armadietto sono io col respiro che è qui fuori che sta giochicchiando secondo me ci aspetta tanto noi non andiamo quindi qui questo qua è un po' più survival il Ray Gun può chiedere direttamente all'alieno che a quanto pare qui vuole fare una bella conversazione dato via sta andando a dire Aridai ancora qua uffa ma è sempre qui e Aridai vuol dire che mi sono buggato qui dentro e non posso più uscire cioè no perché è qui vicino ma non ho cosa mi sono bloccato qui che veramente non riesco più io voglio un salvataggio non c'è un salvataggio perché il controllo è andato via sta dicendo che mi sono fatto tutto il giro questa qua sarà un'altra stanza no non c'è nessuno abbiamo tutti i limiti raggiunti qua per non c'è mi sembra no la mappa aspetta un attimo andiamo dentro perché non voglio farmi fregare a sto punto dopo aver passato tutto sto tempo le abbiamo girate praticamente tutte quindi voi mi avete detto di andare nell'A29 ma perché devo rifarmi tutto il giro porca miseria mi avete detto l'A29 vero cioè giusto per sapere se se avete già fatto un attimino nell'A29 che non è un'autostrada ma è la stanza te cosa dici Ugo intanto aspetto una risposta da voi così almeno me la date visto che ci prendiamo un attimo perché secondo me se andiamo avanti così qua ci pigliamo un infarto che è la metà basta ok allora mi è tutto di entrare nell'A29 perfetto dobbiamo rifare praticamente la strada lì indietro e cucarci l'alieno come dico nel ghetto in the face oh no eh no ehi ehi un momento un momento non mi fido è andato via è andato via ok ma poca misera ma cos'è sto troll ma mi sta trollando ma davvero poi perché perché non non mi fa vedere ma basta eh però allora dobbiamo affrontarci a viso aperto come fanno i veri uomini anche se io sono una donna ma com'è dietro è dietro oddio davvero è entrato qui a fianco volete vedere ah saluti anche a VB Matteo adesso è di là ah sì si è mosso vedete con un movimento un po' vai di là su sui bel fio come si dice a Milano sui bel fio vediamo un po' se riusciamo ad avanzare di nuovo distanza in stanza vediamo un po' infatti vedete che sta tornando di qua ci starebbe secondo me in questo momento è qui fuori perché c'è il carapino uno ha vinto one a quar no mi ha sgamato ma non avevo letto stavo leggendo la chat no vabbè dai ragazzi veramente che cazzo di sudata no il telefono aiuto allora chiudiamo qui comunque mi spiace un po' per l'orario intanto avete la coda piccola sembra un brufolo non lo so la coda piccola di Ugo però ecco chiudiamo qua è stato veramente un live pressing perché ragazzi ho il cuore amico e stasera dormirò con Ugo con Ugo che emiterà tanta bella calda compagnia il nostro caro Ugo è bello pacioccoso intanto sento un po' di cucussette no il problema Luca non è che si usano il rilevatore è che non ho trattenuto il respiro perché stavo guardando la chat e non ho visto il tasto sullo schermo così ho imparato un'altra cosa quindi chiudiamo qui ripeto grazie a tutti quei che hanno visto il il live buona scuola buona università buone lezioni tipo a me che dovete alzare mi ripeto alle 6 e mezza per 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 andare spero che questo live vi abbia trattenuti un po' di più vi abbia caricati un po' di più di comprare un'isolation faccio un culo così all'alien a meno che non sia il contrario TosVagictoni dice Ugo è pacioccoso si è bello pacioccoso il nostro caro Ugo e quindi niente spero ripeto appunto che a lei vi sia vi sia piaciuto vi abbia trattenuto il fiato come l'ha trattenuta me che adesso veramente dovrà prendere il mio ossigeno che ho nell'armadio la bombola così me la metto in bocca direttamente al respiro qui sulla bocca e ci vediamo al prossimo live che decideremo con la redazione cosa sia non faccio di I.V.E.D. prima perché è la versione PS4 e non ho la PS4 e perché mi cago ad osso quindi non lo faccio e anche ieri ho fatto la prova prima del come si dice prima del live di ieri in cui c'erano il Buon Pregianza e il Buon Lorenzo e ho fatto schifo perché sono morto tipo tre volte prima volta che giocavo però vabbè dunque dunque la votazione finale del gioco secondo me quell'otto e mezzo è del tutto meritato perché comunque non è tanto paura perché vedete che quando passava l'alien non avevo cagotto cioè avevo più più paura degli androidi caro caro Link e avevo più paura degli androidi che degli alieni perché alieni sembra tanto paccioccoso come il nostro Ugo però ecco l'alien non mette paura sono più gli androidi mettono una paura a parte che ci sono 56 in un'area però basta correre avete visto e si aiude facilmente la sorveglianza però nel complesso ti mette veramente tanta tanta tensione come detto nella recensione ti mette veramente veramente tantissima tensione il gioco quindi salutiamo tutti quelli che sono ancora in chat che stanno scrivendo quindi Magic Tony Link Matteo che per adesso stanno scrivendo solo però so che ci sono anche tutti gli altri che stanno guardando ma che non stanno scrivendo in chat e noi ci vediamo con il prossimo live ripeto non so su cosa sicuramente dalla Games Week perché settimana prossima ci sarà la Games Week quindi ci sarò anch'io in qualche live così un po' random durante la programmazione e poi settimana dopo ragazzi finalmente esce COD COD che ormai ho pressoché abbandonato Ghost sto tornando su Black Ops 2 e quindi preparatevi perché fra queste due settimane saranno abbastanza importanti soprattutto dal punto di vista dei shooter quindi dell'FPS più importante a mio parere nella mia classifica personale quindi saluto tutti ecco anche RediFiori e noi ci vediamo al prossimo live salutoni anche da da Ugo che anche lui vedete adesso andrò a lavarlo perché è pieno è pieno è pieno anche lui salutoni da Ugo salutoni da Dottor Mirax e al prossimo streaming qui sul canale Twitch di Spazzogames e guardate iscrivetevi